ciao a tutti come vi ho detto porto rocket league su youtube adesso aspettate che vi metta la schermata non si mette la schermata rotto tutto spero che vi si vede spero di sì quindi come vedete questa è la mia auto bellina abbastanza bella come vedete sono livello 32 io tutti questi sfondi due li ho fusi per avere delle cose belle avevo quello del sale e dell'unicorno e ho preso questi ho sbloccato tutti questi dio santo il rank o il fortunello il prospect elite e il veterano qui l'avatar a livello 25 del riquadro stavo giocando un competitive prima comunque spero si veda credo che manca un po di luce no è troppo alto regoliamolo così no così cade tutto ho fatto un po di dimagagne perché non sono riuscito a collegarlo al computer però dietro sfondo dietro la schermata bellino ci ho messo un po per farlo ditemi se è iniziata la partita mi dite cosa è successo sono entrato nella partita già iniziata e ho perso beh avete visto sono entrato nella partita detto vincitori blu io ero negli arancioni non nemmeno giocato vabbè comunque è questo brutto che mi fa sempre entrare nelle partite già iniziata se per piacere mi mandassi alla videocamera retrovisira così ti spacco la faccia se non vai giusto scusi quanto ci voleva fare così eh truffatore si ma si vede si vede si vede mi fa una cacchina come avete visto dei giochi non dovete vederli ecco le giochiamo qua al forbidden forbidden vaffan cool no ormai l'ho lanciata quindi forbidden mannaggia all'inglese non lo so per fortuna che domani ho la essere l'inglese cioè inglese alla terra quarta ora mi sembra vero Omar vabbè se non entro nella video lezione è ovvio che non mi... di nuovo eh ragazzi e ho perso vabbè io ci rinuncio vabbè 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 non mi fa cambiare più schermata dai fammi cambiare schermata infame ecco come avete visto aspetta fammi come avete visto non mi fa entro e mi fa entrare nelle partite già iniziate adesso proviamo che ho cambiato connessione un video di matematica c'è anche giovanetti comunque vi devo raccontare un aneddoto l'altro giorno ho giocato cioè ieri perché questo video pubblicherò allora facciamo la settimana in cui torno a scuola quindi il 22 lunedì che sono a casa l'ultimo giorno perché dopo il giorno dopo perché dopo il giorno dopo dovrei andare a scuola in teoria non lo so perché non ho ancora l'orario quindi però questo video pubblicherò il 22 col programmato e se per piacere mi inquadrassi spero che stia inquadrando perché mannaggia che so io comunque entriamo in una bella partita ieri voi vedete vedete piccolo ma vedete io non vedo proprio perché ho il nintendo con dietro il nintendo con davanti il telefono e di lato il computer per vedere se sta registrando come vedete intorno c'è omegol e tutto il resto vedete tutto quello che è portato sul mio canale c'è pure fortnite che qui sul nintendo ce l'ho devo solo trovare in modo di non farlo crashare mentre provo a registrare parata io mi sono ridato bella parata epica e parata gol parata gol vedete che è diventata viola la macchina è perché squadra blu sono viola perché è il mio colore è il mio colore poi nella squadra arancione giallo perché il giallo è il mio colore infatti negli altri giochi io sono principalmente giallo e viola avete visto l'ho missata tantissimo a sto figlio qua è quello che in squadra con me che non gioca come si chiama floss segnala giocatore floss per condotta antisportiva perché non sta giocando ma vediamo se ti chiudono account ma sta continuando non comunque eh sì uno contro mannaggia cut c'è anche bertossi io entro vediamo cosa dicono ma non vincendo sempre sto parlando di calcio io sono uscito a lezione omar mi ha chiamato dio santo scusa omar mannaggia cut c'è anche l'ho ma non ma par nocchia par nocchia sto tryhardando ce l'ho fatta ah quello che dicono loro non ve lo posso fare sentire perché è privato quindi io adesso registro questo video che dovrebbe durare ancora tre minuti non so cosa tu vai tu vai bravo poi avete visto le lanterne che sono le ho sbloccate di recente perché era era nell'evento ovviamente io su questo gioco ho solo 12 ore credo 12 ore sono un prospect eletto ma non c'entra niente uno può avere anche un'ora di gioco avere aver tryhardato un sacco e si mi sono recapoteato quanto abbiamo minuti viene 4 e 16 è entrato alessandrini che saluto link in descrizione di tutti i miei compagni e i miei amici e a breve uscirà anche un video ah ah piccantuccio no mi dissocio prima che youtube vanna per piccantuccio intendo intendo come lo spiego intendo un obbligo verità madonna tre ore per dire tu fai gol pirla se facevi autogol venivo lì ti picchiamo la mamma comunque uscirà un video videoso ok poi uscirà un nuovo video tipo lunedì della prossima settimana credo se posso perché devo chiedere il permesso a quelli che faranno parte del video 7 gol abbiamo vinto bravo fluss che ti ho pure segnalato sono usciti non vedi adesso guardate come ballo se sentite i tasti sono io un po' sulla tastiera un po' nel controller che è della nintendo come vedete poi dopo devo fare il proprio spaccamentamento delle mie action figure perché ho delle action figure di dragon ball dei cavalieri dello zodiaco poi ho la felpa di attack on titan che è bellissima madonna è quella del corpo di ricerca comunque tanto sto dicendo cose che nessuno saprà quindi quindi ragazzi per oggi è tutto questo video di rocket league è finito vi saluto ciao ragazzi wii non faccio più questa cosa perché so che non funziona quindi ciao ragazzi non si blocca il video che bello iscriviti al canale